benvenuti benvenuti cari amici siamo vi di questo nuovo video oggi andiamo a parlare di bitcoin ma non solo anche dei mercati azionari mercati finanziari perché in questo momento siamo fortemente correlati con essi soprattutto andremo a vedere anche quello che è il quadro ok a livello macroeconomico e per cui iniziamo subito con queste parole di redaglio perché si è espresso che sostanzialmente naturalmente sul denaro che secondo lui è spazzatura ma in questo momento che le azioni il stock market è ancora peggio perché sostanzialmente la fed ha creato un'inflazione ok senza precedenti naturalmente stampando denaro e ora noi tutti stiamo pagando questo con sensibile aumento dei prezzi per cui la mia domanda che sorge spontanea è come difendersi da tale inflazione che ora annualmente ammonta a un tasso del 4 per cento medio allora redaglio si è espresso su bitcoin dicendo secondo me è il nuovo oro digitale quindi questo comporta comunque per bitcoin una certa credibilità poiché uno dei più grandi investitori uno dei più grandi miliardari del mondo ha detto la sua su bitcoin naturalmente abbiamo anche warren buffett che invece è contro bitcoin però che lui si rileva ottimista per quanto riguarda bitcoin in particolare nel lungo periodo ha detto inoltre che asset importanti sono gli asset reali quindi naturalmente immobiliare e soprattutto il gold l'oro e in questo momento andiamo a vedere quello che sta succedendo su bitcoin e poi anche quello che sta avvenendo su a livello macroeconomico allora sono oramai otto settimane che bitcoin sta andando giù ok a me personalmente questo non mi spaventa anzi più vedo bitcoin andare giù più secondo me diventa allettante perché stiamo togliendo che sostanzialmente dalla piazza tantissime persone che non dovrebbero stare all'interno del mondo cripto perché davvero un mondo difficile e soprattutto dovete avere un certo mindset una certa mentalità questo sostanzialmente non si riscontrava pensate dal 2014 perché andiamo subito a vedere quello che sta avvenendo come vedete abbiamo perso il supporto ok dei 28 mila 800 dollari registrato in data 28 giugno 2021 e in questo momento secondo me bitcoin potrebbe ancora andare giù come vedete io in queste zone me l'ho dato un bel buy ok compra e rimango sempre la stessa idea secondo me bitcoin a qualsiasi prezzo 20 mila 10 mila 5 mila secondo me non andremo mai al di sotto dei 20 bar a 15 questa è la media anche perché che cosa osserviamo osserviamo che se noi andiamo a vedere la btc local che mi conosce da tempo oramai sa che io mi affido molto a questa quando siamo al di sotto ok risulta essere un'ottima occasione di buy quindi secondo me bitcoin in questo momento risulta essere uno di quei asset che è il più economico ok tra quelli presenti all'interno dei mercati ovviamente non ho solo bitcoin sto diversificando in tantissimi altri mercati perché è giusto così però diciamo prettamente ok il mio core business riguarda come sapete il mercato dei criptovalute per cui vorrei ok mostrarvi questo video ok di Ray Dalio in cui spiega quali sono i principali problemi a livello macroeconomico e andremo a cercare di capire ok come essenzialmente possiamo uscire da questa situazione la cosa che cosa si vengono a dire con il tempo che ci si vengono la parte del period number one so we'll talk about that I hope number two is the internal conflict populism of the left and the right and what that is doing both politically and that of course have economic considerations and number three is the rising of great powers to challenge the existing great power in the existing world order now if you bring those things down here we are having a monetary policy okay where are we in the monetary policy and what's the big question so if you want me to answer that so I think right I think that big question is can the Fed effectively reduce demand without breaking the back of the economy okay and rather than just jumping to the answer I always like to deal with the mechanics of right in the answer you know and I think the answer is no but here's the reason why an interest rate when there's a lot of debt one man's debts or another man's financial assets and they have to balance both of those things and so they will not be able to raise interest rates to a high enough level to adequately provide a real return to investors so if you think about the rising rates and we say three percent rot is an interest rate right or even four percent in an interest rate that is not going to be an amount of money that's adequate to compensate for the inflation rate and we're in a paradigm shift I think a paradigm is you know something happens for ten years an environment for ten years and at the end of that ten years people believe everything that happened in the prior ten years and then they get a surprise right and then they start to change and something like for example do I leave cash is a safe investment or bonds are a safe investment after a 40-year bull market and those types of things that begins to shift as they start to think am I getting a real return so there's going to be a supply demand balance most importantly the federal reserve is going to sell individuals are selling foreigners are selling and the u.s. government is selling because it has to fund its deficit so there's going to be a supply demand problem that means that it produces a squeeze because so much money was put out at such cheap rates and so much financing was taken that they it'll be difficult to achieve that balance so I ok quindi come spiegato da reidaglio i principali problemi sono rappresentati in primo luogo da tanti soldi che sono stati stampati ok noi lo sappiamo nel 2020 quanto hanno stampato quindi c'è stato un schero che sono dei mercati ora c'è stato il crash andiamo a spiegarlo il perché secondo motivo il debito ok dei vari stati debito pubblico che sta ripagando ovviamente in questo momento proprio grazie l'inflazione naturalmente se voi andate aumentare i prezzi andate aumentare l'inflazione il debito diventa minore a pagare e quindi se la risolvono così però non vanno a pensare ok alle persone quindi cosa succederà adesso secondo me probabilmente andranno a realizzare i tassi di interesse come vediamo se andiamo a vedere i tassi di interesse applicati sostanzialmente dalla fed potete vedere come sono bassissimi ora abbiamo il 0.5 eravamo 0 siamo andati a 0.5 secondo me andremo ad alzarli ancora come ovviamente si è visto nel corso del tempo quindi andremo alzarli e dove possono arrivare questi tassi probabilmente secondo me arriveremo ok prima o poi negli anni nuovamente a livelli almeno del 2 barra 3 secondo me è un 0.5 ok sostanzialmente eminente vorrei mostrarvi anche quello che il tasso interesse soprattutto no scusate il tasso inflattivo in italia ok perché secondo me è molto interessante sapere questi dati guarda qui a partire 2021 abbiamo registrato un'inflazione senza precedenti qua si parla veramente di per inflazione siamo passati al 2.5 sostanzialmente di settembre 2021 fino a un 6.5 in marzo per cui direi che stiamo diventando tutti più poveri e quindi come possiamo difenderci ok per non diventare poveri allora primo risparmiare e secondo investire ora vorrei capire quello che succederà ok sull'esp e non solo anche su bitcoin secondo me sull'esp potremmo avere ancora una correzione ok perché non mi convince sostanzialmente i tassi di interesse ok sono ancora bassi come possiamo vedere quindi secondo me con un aumento i tassi comunque i mercati andranno ancora scontare almeno nel breve periodo ma soprattutto quello che potrebbe essere bullish ok secondo me su bitcoin che potrebbe andarlo un po' tutelare quindi causare una caduta meno repentina è il DXY perché in questo momento siamo ai livelli del 2016 ok addirittura superiori perché eravamo arrivati ai livelli di 102 successivamente dump 89 e poi avevamo raggiunto i 104 come sappiamo DXY rappresenta la forza del dollar nei confronti delle altre valute quindi euro qualsiasi valuta volete in questo caso anche nei confronti bitcoin quindi il dollaro in questo momento è forte e io penso che dovrà scontare anche perché andranno le zarita si interesse quindi che cosa potrebbe avvenire in futuro secondo me su bitcoin ok perché questo è quello che ci interessa potremmo ritestare ok livelli anche di 26 25 anche 20.000 ok nel caso veramente di un fine bull marketing io non penso che andremo al di sotto di quello che il vecchio ultamai sostanzialmente del 2017 questa sostanzialmente la media ovviamente poi può succedere di tutto però storicamente non abbiamo mai raggiunto ok un vecchio ultamai quindi secondo me comunque sono buone a ridi buy comunque vi ricordo che se andiamo a riraggiungere ok quei livelli sarebbe comunque un meno 30% da ora quindi comunque sarebbe una bella collezione quello che mi consola è che secondo me ma anche secondo il buon t analyst per i prossimi due anni ok vedremo un qualcosa di molto interessante come vedete lui ora ha riprodotto quello che sostanzialmente avvenne nel 2015 2017 quindi secondo tutti noi siamo in un chiaro bear market ok che durerà abbastanza questa estate secondo me forse potremmo vedere un rimbalzo ma secondo me sono momenti in cui bisogna andare a accumulare e bisognerà studiare quelle che saranno le nuove gemme ok questa è la media ovviamente chi va su bitcoin va maggiormente sul sicuro però abbiamo visto chi accumulava in bear market coin come Solana e anche Luna che poi ovviamente è successo quel che è successo però ha fatto i suoi rendimenti potrebbe davvero fare numeri molto ma molto interessanti quindi secondo me i prossimi due anni ok saranno interessanti come la red accumulo volevo infine darvi ok quella che è una notizia secondo me tra virgolette interessante la prima è che Brave non so se lo utilizzate ma sostanzialmente navigate internet ok e ricevete il token Brave circa si fa mediamente 3 dollari l'anno però buttateli via e quindi ha un dato integrale ok Solana all'interno del suo sistema e infine volevo chiudere ok anche con questa notizia che riguarda diciamo la Sud Corea che al momento ha problemi ovviamente l'exchange sudcoreani stanno avendo i problemi a seguito del caso Luna per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e ci vediamo presto attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distruggere il botone di like, iscrivervi al canale e ci vediamo presto